Ciao ragazze, in questo video volevo parlarvi di alcuni prodottini che ho provato e volevo farvi sapere cosa ne pensavo. Ci tengo a precisare che questo è un video collaborazione con Pink Elven Girl, giù nell'info box vi metto il suo link, vi invito a visitarlo perché è vero che è una mia amica, quindi magari sono un po' di parte, però è veramente, veramente brava. E niente, quindi questo è un video collaborazione. Passiamo quindi ai prodotti. Il primo di cui volevo parlarvi è questa crema per il viso di Bottega Verde, che vi parlai già dell'acquisto di questa crema qui, quindi vi metto sempre nell'info box anche il link del mio video precedente. In questo video invece il mio scopo è dirvi cosa ne penso dopo averla appunto provata. Allora, questa è la cremina, non ha un colore bianco bianco, diciamo un color panna, è molto profumata e si presenta così, questa qui, e vi faccio vedere un po' come si stende. Si stende molto facilmente, ed è al miele e olio di jujuba. Allora, cosa mi piace di questa crema? Tutto. È davvero un'ottima crema. Magari vi consiglio di andare in negozio a Bottega Verde, chiedere se hanno un campioncino, magari se vi piace la comprate perché è davvero ottima. La sto usando anche mia sorella e come potete vedere è ancora quasi pieno. Dura tantissimo veramente, ne basta veramente poco e soprattutto per l'estate è molto idratante, è ottima. Come secondo prodotto, sempre di Bottega Verde, sempre ve ne parlai dell'acquisto e il prezzo nell'altro video, quindi vedetelo anche per questo prodotto qui, che è un olio unghie rigenerante e serve per la manicure. Questo prodotto, allora io lo sto applicando una settimana sì e una no sulle unghie, la settimana no è perché metto lo smalto, infatti in questa settimana sto mettendo l'olio, non lo smalto. Allora, è buono, io ho alcuni miglioramenti, li sto notando. È un mesetto che lo provo e in questo mese mi ha dato speranze, diciamo. Le unghie si sfogliano molto meno e sono molto meno fragili. Ovviamente io in questo periodo sto sempre con le mani nell'acqua per pulire casa, grandi pulizie, quindi comunque mi si è spezzata l'unghia. Io continuerò ad usarlo, poi magari tra altri mesetti vi farò sapere una conferma, diciamo. Però per il momento mi sta dando davvero delle speranze. Un altro prodottino che sto provando è questo smalto qua, l'Essence Multidimensions, che è il 66 Most Wanted, con cui ho fatto anche una nail art, il tutorial, il link del tutorial ve lo metterò giù nell'infobox lo stesso. Allora, per questo qua ho da dirvi alcune cose positive e negative, tra virgolette. Allora, come prima cosa positiva è il colore. Cercavo questo colore da molto molto tempo, finalmente sono riuscito a trovarlo e non me lo sono assolutamente fatto sfuggire. Quindi è un colore bellissimo. Un'altra cosa positiva è il prezzo messo a confronto della quantità e della qualità del prodotto. Questo mi è venuto a costare 1,99€. E ovviamente per tutto questo prodotto qui, che è abbastanza, sono 8ml, è un prezzo più più che buono. E come qualità invece, lo stesso, 2€, è un buon prezzo, perché comunque è un ottimo smalto. Una delle cose, infatti, che mi è piaciuta di più è la durata. Dura veramente tanto sulle unghie, è difficile che se ne venga via il giorno dopo o anche 3-4 giorni dopo. A me se ne è venuto dopo una settimana. Ottimo, quindi. Una cosa che però proprio mi ha lasciato un po' perplessa all'inizio è il pennellino, che ora ve lo faccio vedere. Che è abbastanza cicciotto. Quindi all'inizio ci sono rimasta un po' male, perché sono abituata a pennellini molto sottili, mentre questo è praticamente cicciottello. Quindi mi è stato un po' difficile all'inizio stendere il prodotto. Poi, visto che comunque, visto l'effetto che faceva, mi sono ricreduta anche sul pennellino sia un po' scarso, diciamo, come pennellino. Però alla fine sono sempre 2€, non puoi pretendere un pennellino eccezionale. E un'altra cosa che mi è piaciuta, la coprenza. Ha veramente un'ottima coprenza. Mi è bastata una sola passata per coprire bene tutta l'unghia. Solo che su alcune unghie mi era venuto più scuro, su altre più chiaro. Quindi poi per uniformare il tutto ho dovuto comunque fare una seconda passata. Però con pochissimo prodotto, perché appunto la prima era più che sufficiente. Allora, questo è tutto. Vi invito di nuovo a guardare il video di Jessica. E la voglio assolutamente salutare. Le voglio mandare un enorme bacione. E niente, saluto anche tutte voi. E ringrazio tutte voi, soprattutto. E niente, ciao ciao!